Ed ora pronti per la festa, vince quattro coppie Aglievici, maschile, la quarta finale, la canottieri, Speranza, Tra! Medaglia d'oro, Lorenzo Ciollaro, Andrea Di Muro, Edoardo Rocchi e Nicolo Ferruggia! Un altro racconto bellissimo, la canottieri Speranza Pra che nel settore degli WC ha dimostrato di avere carattere. Tre medaglie d'oro in 7.20 e una medaglia d'argento, poi insieme in quattro di coppia la medaglia d'oro. Ragazzi, quanto avete lavorato nella preparazione di questo quattro di coppia? Molto, molto. Vi aspettavate di vincere? Sì, sinceramente sì. Ci vuoi raccontare com'è andata la gara? No, bene, siamo partiti davanti, siamo rimasti davanti aumentando sempre di più. Una gara dominata che vi lascia e vi lancia verso il vostro futuro. Vedo qualcuno che piange e scende anche una lacrimuccia lì in mezzo ai tifosi. A chi volete dedicare questa medaglia d'oro? A tutti, in particolare al nostro amico Alessio Bezzano. Dov'è Alessio? Eccolo di là. Un abbraccio. Ieri ve l'ha dedicata lui. Oggi ritorna la dedica. Forza ragazzi e soprattutto forza... Speranza! Speranza! Grazie a tutti.